Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di Tisolation insieme a Stepney Ciao ragazzi, siamo tornati, sono tornato in realtà visto che ero morto l'ultima volta per colpa tua Eh sì, per colpa mia mo, per colpa mia Aspetta, tra l'altro voi non lo sapete perché non ho registrato, sono dovuto tornare per ben due volte di fila Perché tipo non mi ricordo di cosa stavamo parlando ma mi fa, ci tieni alla tua vita? Io ho detto, no, no, boom, sono sposato al crimine Non è, non è funzionato così Basta dire stronzata, andiamo a farmare l'Henderman perché oggi in questo episodio cercheremo di aprire il portale con le occhi dell'Henderman Ok, ma lo sai è vero che non abbiamo le blaze, bisogna andare anche nel Nether Comunque, comunque, come è tempo di step, eh non abbiamo tutte quelle blaze Ah ma chi mi hai fatto tornare, potevamo dividerci, tu prendevi l'Henderman e gli prendevo le blaze Ma poi veniva un episodio brutto, non ci piacciono episodi brutti Potevo fare la doppia registrazione e veniva una fecata assurda Ma sei pazzo malato Beh ragazzi allora, 50 mi piace, prossimo episodio doppia registrazione Tanto sono neanche tanti video per questi giorni La prossima, il prossimo episodio è la guerra contro l'Henderman e il Dragon, ma sei pazzo Cosa è il prossimo episodio? Oh, no, no, zio salvami Salvami adesso Dove sei? Non ti vedo, non ti vedo, non ti vedo, ah ok Allora ragazzi, allora ragazzi, come hai detto Stepney? Abbiamo trovato l'Henderman portal, sta laggando tantissimo Nello scorso episodio abbiamo trovato il portale dell'Hend e il nostro obiettivo oggi è quello di trovare tutte le Ender Per trasformare poi in Ender Eye da mettere per aprire il portale e andare nell'Hend e sconfiggere l'Hender Dragon Che è l'obiettivo finale di questa serie Eh, ho un'idea, ascolta, quanti livelli hai? Eh, 12 Ecco, potremmo fare così, andiamo giù nella miniera Oh, cioè, metto in pausa Minecraft, non lagga Apro Minecraft, inizio a muovermi, lagga Cioè, cazzo è questa storia Vuol dire che hai poca RAM? Ma non è vero? Sì, hai la CPU a puttane Deciditi, RAM o CPU? Il tuo CPU è ramoso, ti puzza il culo di merda Ok È fondamentale se hai RAM o CP, che cazzo ti cambia? Non lo so, sinceramente, però andiamo avanti Oh, vedo un Enderman, ok, ma tu sei riuscito a prendere un Ender Pearl? Non è un problema, tanto spostare giustando l'ho Non è un ragionamento o no? Della CPU ramosa? No, è un ragionamento di andare giù in miniera e fare looting Looting, perché looting? Di un'esplosione Sto per morire, cosa è l'esplosione? Andiamo a cazzo di calestia, è il Enderman o no? È quello che sto facendo, sto cercando Ender Certo, è un'esplosione io adesso Eh sì, sei davanti a me Comunque, stavo dicendo, te stavi dicendo cosa? Di andare in caverna? No, stai dicendo, stavo dicendo da un'ora Che cazzo è questo video? Sì, ma no, stavi dicendo Stavo dicendo che se cerchiamo il dungeon con le librerie Facciamo il looting Incantesimo Non mi mangio i panini, sta laggando troppo Manco i panini mangia Due Enderman abbiamo trovati, uno non sono riuscito manco a prenderlo Ma stavi dicendo? Te c'hai un Ender Pearl? Basta! Ma che stavi dicendo? Basta! Allora, io altrimenti volevo l'Enderman, perlottine cosa sono morto di avere accogliere da te No, infatti ce l'ho io E se per quello è anche sprecata una Basta! Ne ho una di Ender Pearl Ne abbiamo una sola allora, perché io ne ho zero Chiaro? Perfetto Concentuzione Perfetto Però in tutto questo bisogna trovare... Beh, in tutto questo c'è il fatto che probabilmente ci siamo persi Non ci siamo persi Ah, no, è sì Ah, la nostra isola Minchia Non è che spiegato serie? Il problema è che non ci sono Enderman Eccolo lei uno Eccolo, eccolo uno Eccolo, sì, cazzo è Yoko, una canzone di Salmo Lo massacro, va Lo massacro, vi è Ah, ok, allora c'è Ah, ok, allora sono due, sono due Enderman diverse Aiuto, aiuto Mi ha dato l'Ender Pearl comunque, se ti interessa Bravo Io sto per morire perché se mi colpisce ancora una volta sono morto C'è pure un ragno Oddio, ok, 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 è Enderman C'è Ender Pearl Sto per morire, zitto No, 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 mezzo cuore, zi No, mezzo cuore, è pericolo No, 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 no Una pozza di lava a mangiare un panino Ti avrai capito, io ho mezzo cuore e sono circolato dei mob Che mi stanno inseguendo nella foca più totale Ho paura, ho paura, ho paura Oggi parleremo del bug del mezzo cuore Raccontaci un po' Il mezzo cuore è quello là di Harry Potter Tipo mezzo sangue No, non c'entrò un cazzo Vabbè, ci ho provato Il mezzo cuore è l'ultima sciaccia Ma mi stanno inseguendo tantissimo Prima di attraversare il baratro della morte Baratro, ok, il baratro della marmellata tipo Quella della nonna Tu amo la marmellata io Ragazzi, alle prossime fiere Portatevi la marmellata la città No, ma sei pazzo Le confetture le mettono nei cosetti di vetro Poi te la lanciano addosso e muori No, muoio veramente di a bello La marmellata non la portata Allora, c'è un enderman qui Però ho paura di colpirlo perché ho poca vita Ho finito la spada A parte che stiamo giocando in 1.8.9 Quindi ci sono delle cose strane Ma penso sia solo tipo bugs e robe così Poi stiamo giocando a mezzanotte Quindi ho un sonno assurdo io Non è come al solito E oggi mi sono togliato un prezzo Mi andavo a comprare tutti i regali di Natale Anche il tuo Che mi hai comprato? Eh, non te lo dico Sennò che è il regalo Ma Perde il gusto se ti dico il regalo Ti ho comprato una sciarpa No No, ti prego no Ti piacciono le sciarpe? No, ti prego no Stai scherzando No, no, no Stai scherzando No, portali indietro e cambia il regalo È un regalo, devi accettarlo Vabbè, lo do a mia mamma Che pezzo di merda Non puoi riciclare i regali Ma che schifo Non hai mai riciclato un regalo? No Non riciclo i regali Ma chi ci crede? Cazzo stai dicendo? E quella volta che hai detto Ah sì, questo regalo mi ha dato un mio amico Però non mi piace, lo do a te L'ho registrato in un vlog se non sbaglio Ma addirittura? Comunque ho tre enderpearl Ok, siamo a quattro Comunque, tornando a noi Legend del mezzocuore narra Che quando raggiungi il mezzocuore Diventi parzialmente invulnerabile Una sorta di terminator Ah, perché tipo ti sale l'adrenalina Esatto, confermi? Così, sì Io ora ho cinque cuori Io ho sei E mezzo Quindi siamo d'accordo No, gli enderpearl non muoiono di giorno Eh, ma non nascono meno Non nascono L'unica cosa è che iniziano a muoversi come degli handicappati Perché? È perché hanno paura del sole Davvero? Sì, sono tipo gli vampiri di Twilight Ma che cazzo stai dicendo? Non è vero? Ti giuro Comunque qua ce ne ho beccato un altro Cerco di attaccarla Sì, giuri Come la famosissima Ciò Io giuro Ti verrò a prendere a fa... Giù Qua... No No, ti prego Vai lì velocemente Avevo tre enderpearl Allora, vai alla montagna dove c'era la tua cesta E vai verso... Verso dove sta sorgendo il sole Vai verso est Vai verso est Vado verso il sole? Dio, come ci arrivo ora lì? Eh? Vado verso il sole? Verso il sole Ok Non so quanto arrivo lontano Sappilo, no la troverò mai Forse riesco a tornare Solo che non ho cibo No Madonna No, avevo tre enderpearl Tre enderpearl No, sappi che non ritroverò mai le tue cose Se vuoi registro però Parliamo un po' di canzoni Canzoni? Eh, ultimamente mi sto ascoltando Tanto La canzone è quella lì Come si chiama? Sono le tagliatelle di nonna Non so bene come si chiama Non mi ricordo Però è molto bella No Come no? È una merda Non offendere zia Pina Nonna Pina Non so manco chi è Eh, ho capito Ho tante parenti C'è un grosso problema Tu mi hai detto vai verso il sole, ok? Sì È iniziato a piovere Scomparso il sole Non so più dove è Vai verso est Avvi le coordinate vai verso est Verso est? Perché non ci vuole un genio Ma che cazzo vuoi? Ma chi ti ha detto che il sorge est? Che il sorge sole a est Le grandissime frasi di Stephanie Titolo del video Il sorge sole a est Sì, io mi sono perso tantissimo Come hai fatto prima Devi riscrivermi le coordinate No, purtroppo non hai capito Abbiamo perso il portale per sempre Io sono sperduto Ok, ok È iniziato a piovere anche qui No, aspetta Come sei sperduto? Sì, mi sono perso Dovevi solamente andare verso Hai detto te Io ti ho detto Guarda, ci siamo persi E tu invece No, no Ma è qui dietro il portale Minchia Lo era Ma non lo è più Fidiamoci di Stephanie Ok, ok Vedo la torcia Vedo la torcia Sono vicino Sì, sì, sì Vedo la torcia Articolo e coordinate Vai verso X-50 Z-600 Sono a X-350 Come è 350? Vabbè, ci metto poco X-350? Ma X-350 vuol dire Che l'hai superato Di 400 blocchi il punto Aspetta Z quanto? Z è Meno 650 Dove sei? Sono Meno 1600 Non è possibile Cazzo ridi È da deprimersi Ok, ok Sì, ci sono le end C'è tutto C'è tutto C'è tutto Mamma mia Eh, tutto sommato Adesso che non sarà Completato Poi Poi dimmi Se il sorge Non so l'est Mamma mia Bisogna farci le magliette Del sorge Che so l'est No, sì Non c'ho il pane Cosa mangio? Le rotte in flash Ok Meno 50 Meno 500 Nessuno ha detto Ne 50 Ne 500 X Meno 150 Z Meno 700 Meno 700 C'è solo un problema Non abbiamo il blaze Io ho tre enderpelle Ho paura di perdere un'altra volta Che dici se torno a casa? Figurati Io ho una enderpelle La sto per usare Per l'attroversario Il palazzo No Cosa vuoi fare? No, dai, non la uso Non sono pepparsi male Allora, dimmi le coordinate Sono Sono X Meno 100 Ti prego Ti prego Non andartene No, no, no Torni qui Torni qui signor enderpelle Non ti voglio bene No, no, no No, sai cos'è il fatto? Allora, uno piove Nel massimo Vono I due Nel deserto No, spendo un po' più Nel deserto È tutto uguale Tutto uguale Insomma C'è una bussola apposta Mi cos'ho spettato sulla webcam Puoi avere la bussola Ma è tutto uguale Eh, ma le bussole esistono apposta Dai, dove sei? Che io sono qua Fermo da tre minuti Ti vedo Ti vedo Ah, ok, ciao Sono arrivato Allora, io suggerisco una cosa Prendiamo le nostre quattro enderpearl E a meno che tu non abbia delle blaze Eh, no A meno che tu non abbia delle blaze Lo le portiamo a casa Perché comunque No No, mi rifiuto Piuttosto prepariamo una cesta No, 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 no Cosa no? Mi fai dei colpi Quando vai vicino alla lava Per combattere un creeper A caso perché non ti serve A combattere quel creeper È dentro una caverna Esperienza Tutto fa brodo, no? Disse me lo e pisciame alla minestra Ah Minchia, attento qui Dove? Qua Che ce la dava Comunque E devi tornare a casa sul serio No, no Non voglio andare a casa Stiamo qua Stiamo qua Stiamo qua Tanto ora diventa notte Fidati, fidati Insomma Cosa stai facendo? Sorri Sorri Che c'è? È notte È diventata notte E anche nella realtà Sono le una Che sonno Però c'è un problema Piove ancora Siamo fottuti Però aspetta Di qua non piove Ma no, ma il deserto non piove Ragazzi questi sono i nostri bellissimi bunker Per non morire di giorno I bunker I bunker La stanza del banchiere Il bunker Vabbè Ma in Congo si dice bunker Visto che io sono per un sedicesimo senegalese Posso dirlo Ok Un sedicesimo senegalese Sì perché c'ho il cazzo lungo Ma se si dice in Congo perché sei senegalese? Non ha senso Ma perché sempre in Africa è Dai su tu non le sai ste cose Si mi è appena venuto in mente il nome di uno dei giochi Che ho più amato nella mia infanzia Cazzo lungo simulator Ma in mente c'hai giocato anche te perché era epico Come si chiamava? I tre regni Arcanum No Sì Io sono giovane Non hai giocato ad Arcanum Io sono giovane Oh mio No non ci posso dire Ho bisogno di zombie Sì Perché noi siamo stati fermi per tre ore Ma ho bisogno di cibo Ho trovato un enderman E ho trovato uno anch'io Comunque se qualcuno di voi conosce da giocato ad Arcanum lo scriva nei commenti sto per morire No c'è una strega Sì no c'è una strega non posso andarci mai nella vita C'è io ti giuro sulla vita che Arcanum era il gioco più bello della storia Ma cosa dovevi fare in Arcanum? Tipo era un mondo RPG Intanto Ah tipo Sacred? Hai mai giocato a Sacred? Sì Sacred non Sacred Sacred È inglese Sì Appello Sì Sacred Ma che cazzo ti sacred me lo dici? La torta Sacred Ah buona Cazzo devo mangiare Rottenflesh ho finito i panini Eh benvenuto nel mio mondo Abbiamo anche le tessere nel club Il mondo è mio intanto lo sto mostrando io Devi fare tutte le Dimi dimmi Le cose fighe tutte le classiche Tipo c'avevo il ladro che andava nelle botteghe dei commercianti Più avevi il livello del ladro aumentato Più potevi scassinare la combinazione Sto cose qua Tipo Skyrim? Sì proprio figo Ma di quanti anni fa era sto cosa? In 2001 2001? Sì Allora è più figo Sacred è sicuro Ma che fanculo ti dico che era più figo Arcanum Minchia ora me lo scarico e ci faccio una serie Ragazzi 30.000 like se hai di Arcanum sul mio canale Eh sì? Ma aspetta perché chiedi like sul mio canale per fare i video sul tuo? Minchia ho bricato due Enderman Ragazzi 30.000 like serie sul canale di Suri di Arcanum La facciamo insieme Eh ci può fare in coop Non credo Appunto A meno che non l'abbiano fatto Ragazzi 50.000 like e contattiamo gli sviluppatori per creare Un'altra Ender Pearl Un'altra Ender Pearl Cosa stiamo dicendo? In questo video sta degenerando tutto Ma perché ho i capelli così colorati? No Cosa? Oh sì forse mi dà un'altra Ender Pearl Oh sì Ho 5 Ender Pearl Ma non è possibile Ti giuro ho 5 Ender Pearl Ora vado verso la torcia Viene che ti ha verso Ah ma te sei ancora prima la torcia? Io sono sempre stato qua Come sei stato sempre là? Io sono andato in giro Mi fanno fatto un giro del deserto? Mi sono allontanato un pochino Almeno hai delle rotte in flash per farmi mangiare Ne ho 7 Ma è coincidenze? Io non credo C'è uno schetro C'è uno schetro Sì devi venire ad aiutare Oh merda Oh merda Oh merda No no se muoio Se muoio è finita Ok ok Ma cosa vuoi vedere con i tuoi occhi di elfo? Che non vedo un cazzo Enderman visto con l'occhio di elfo No 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 Sì torna qui Dammi le Dove fai? Dammi le rotte in flash Aspetta c'è tu la cesta nell'inventario Oddio Ender per l'inventario Ok ne abbiamo quante? 7? Guarda che bastano Mi sa che bastano Abbiamo messo tipo 5 l'altra volta Ne abbiamo messe 5? Sì Cioè tipo c'erano già 2 Con quale criterio ne abbiamo messe 5 Se non ne avevamo le blaze rod No Sì Guarda ne avevamo già fatte Tipo ne avevamo Ma che tisci? Hanno tipo 4 Non mi risulta Sei tu che hai sparato con l'arco? Cosa? Hai qualche problema mentale? Non ho sparato con l'arco Ti ho visto Non ho un arco Ti ho registrato Metti la cesta per terra La cesta non ce l'ho Ti esplosa prima in tal faccia Ok forse sull'arco Ma non ho la cesta Hai del legno? Ho delle mele Le sto mangiando Ma no Aspetta Una cosa fighissima però Del legno? Si Un regalo per te In realtà non ti ho regalato una sciarpa Ok Tieni Questo è il tuo regalo Pezzo di pane Cavallo Molto meglio Ma perché non si può Abbiamo Abbiamo 5 Per fare i pantaloni di Di Ender Pearl Perché poi sono Ragazzi 100.000 like E contattiamo la Mojang Che ora è in mano La Microsoft Per dirgli di fare i pantaloni Traslatori Cosa? Traslatori? Traslatori Si che cazzo stai facendo Il disegno di tecnica Trasla il disegno Di 60 centimetri a est Immaginate i tori Che vanno al giro Per strato No no Bello Ho due cuori Cos'è che volevi fare? Chiedo perdono Chiedo perdono Te non hai capito Non abbiamo cibo Chiedo scusa Ma inutile che fai Ah si Voglio vedere come scendi poi No 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 fermo Non scherzo No Non scherzare Non sorrere Oh mica ho finito l'arco Porca troi Cioè Cazzo ride Principiante Sei un primo C'è un enderman C'è un enderman Andiamo 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 5 più 1 fa 6 No Coprimi zi Coprimi tantissimo È andato lontano È andato lontano Vado a prenderlo È un trattamento È un trattamento Perché c'era la lava Ok L'ho fatto cadere la lava Non so se è una cosa buona Vado nell'acqua No Come hai fatto cadere la lava È perché avevo paura Se lui si trasla Ti uccide lo stesso Ma basta con questa traslazione È dietro È dietro È dietro Stai dietro Non può passare Perché c'è l'acqua Guardalo Che vergognoso Che vergognoso Che vergognoso schifoso Muori Almeno ho dato l'hender Almeno ho dato l'hender Prendi l'hender per Le scappa L'ho presa Ok Allora facciamo così Io ti aspetto qui Prendi l'hender per Le tourna No Allora Punto numero 1 L'hender per Non si muovono da qua Perché no Perché no Io adesso sloggo Ti aspetto qua Mentre mi porti Del cibo Ovviamente E noi ragazzi Ci vediamo nel prossimo Nel prossimo video Speriamo di avervi scelto Questo è stato Sponciato Non dite se non fate Se il canale Qua da Stefani Da Suri è tutto Ciao a tutti Tutti Caciotti Vabbè Ciao a tutti